È stato un incontro positivo, il Ministro ha ascoltato ed ha accolto gran parte delle richieste che gli sono state rivolte per superare le criticità dovute alla chiusura dell'E45 nel Comune di Pieve Santo Stefano. Noi abbiamo presentato richieste relative all'intervento sul viadotto, ma che ovviamente attengono anche al possibile dissequestro, o comunque al fatto che la magistratura possa accogliere l'istanza che ha rivolto ANAS con la presentazione di una relazione tesa a dimostrare che è possibile una riapertura abbastanza immediata seppur magari con un condizionamento del traffico. Le altre cose che noi abbiamo richiesto sono quelle dell'intervento immediato per la riapertura della vecchia tiberina 3bis che è l'unica alternativa per quanto riguarda la viabilità per superare quel tratto e da questo punto di vista c'è stato un immediato accoglimento perché quell'intervento può rientrare nella canterizzazione addirittura dei lavori del Puleto. Mi sembra anche positivo il fatto che siamo tutti quanti entrati, compreso il Ministero e ANAS, nell'ottica di un recupero della vecchia tiberina 3bis nel patrimonio ANAS, quindi nelle loro competenze. Questo è fondamentale perché era un problema aperto da oltre 15 anni e credo che questa sia la volta buona per cui possa risolversi in quanto quella strada è assolutamente necessaria in caso di una crisi anche più leggera di questa magari dovuta a un semplice incidente. L'ultimo aspetto che il territorio complessivamente attraverso la voce delle regioni Umbria, Emilia Romagna e Toscana ha proposto è quello di un ristoro per quanto riguarda i gravi danni che stanno subendo le aziende, le famiglie dei nostri territori e da quel punto di vista il Ministro si farà tramite con l'alto ministero competente e sarà una questione che affronteremo anche nei prossimi giorni. Ovviamente se la chiusura dovesse protrarsi il problema è un problema grave, un problema serio, se invece potessimo vedere la riapertura come noi speriamo, il problema sarebbe un problema che andrebbe a risolverlo. Però devo dare atto al Ministero, ad ANAS, di una sensibilità, di una conoscenza puntuale delle nostre problematiche e anche di un'apertura importante per la loro soluzione.